Con la demolizione di un immobile incontrata a Cavaleri Magazzeni nella zona di Poggio Muscello a San Leone, a Grigento, area sottoposta a divieto di inedificabilità assoluta, si sono completate le operazioni che hanno visto l'abbattimento di ben otto immobili abusivi costruiti negli anni Ottanta con sentenze passate giudicato tra il 1992 e il 1998. L'ex proprietario della casa abusiva abbattuta ieri, Beniamino Benni Vella, ha diffuso una lettera alle redazioni giornalistiche molto toccante. Oggi, scrive Vella, insieme alla nostra casa si è abbattuta anche quella poca speranza che avevamo, quella di poter vivere ancora sotto il nostro tetto e dove i miei genitori sono morti. Oggi nessuno si è chiesto dove stanotte saremmo potuti andare a vivere. Oggi ci sentiamo abbandonati dalla nostra amministrazione per l'ennesima volta che dovrebbe avere una tutela maggiore se ad essere colpita è un'intera famiglia con un padre invalido, una madre e due figli minorenni di cui uno anch'esso è invalido. Oggi, più di ieri, vogliamo però credere nella giustizia che sta facendo il suo giusto corso e con i tempi dettati dalla procedura. Giustizia alla quale la stessa amministrazione sembra non volere fare affidamento perché non ha voluto attendere una sentenza del TAR, frantumando e vanificando quanto si era costruito, non inteso esclusivamente come fredde mura, ma come focolare domestico per tutti questi anni, con un atto sconvolgente. Oggi non abbiamo voluto assistere alla triste e fredda esecuzione, non della seconda o della terza casa, ma dell'unica casa in nostro possesso. Oggi vorremmo essere degli immigrati per poter essere ospitati in albergo, invece siamo solo italiani e quindi ci aspettano le stelle. Oggi, conclude Bennivella, non abbiamo più niente.